Presentato a Palazzo Zimbardi dal Presidente Podestà e dal Sindaco di Milano, l'accordo sullo scambio quotesi a Serravalle. Siete molto vicini all'accordo, esattamente quando verrà formalizzato? Siamo, come lei ha detto, molto vicini all'accordo, vi sono ancora alcuni particolari, ma che giudicherei secondari. Adesso vi è un iter, che è quello di presentare ognuno la propria giunta, averne l'autorizzazione, presentare ai consigli, Consiglio Comunale e Consiglio Provinciale, crediamo di vedere se possiamo organizzare nella stessa giornata Consiglio Provinciale e Consiglio Comunale, potrebbe essere nella settimana che va dall'11 in avanti, dopodiché vi sarà ancora, per quanto riguarda noi, obbligatoriamente un Consiglio di amministrazione di ASAM, perché la nostra partecipazione è detenuta da questa società. Mi sembra però che quella volontà che era stata espressa di far di tutto per valorizzare al meglio le partecipazioni dei cittadini di Milano e dei cittadini dell'intera provincia, che ancora una volta anche i cittadini di Milano fanno parte della provincia ovviamente, lo stiamo portando avanti con grande serietà nei tempi pensati, essendoci avvalsi di advisor che ci possono determinare in maniera precisa l'eventuale con cambio, che abbiamo detto, gli advisor ci dicono che sarà di 45 milioni che il Comune verserà alla provincia. L'inizio di una collaborazione tra Comune e provincia? È la continuazione di una collaborazione, stiamo ragionando sempre di più nell'ottica dell'area metropolitana, questo accordo invece riguarda evidentemente due asset specifici del Comune e della provincia, però è indubbio che riguardano anche la mobilità e quindi si deve ragionare anche nell'ottica di quello che servirà alla futura area metropolitana. Mi sembra che è da sottolineare che si è arrivati a un accordo che dovrà essere convalidato dalla Giunta e dai rispettivi consigli comunali e provinciali in tempi molto celeri, con una grande condivisione sia sulla valutazione delle quote SEA che delle quote Milano-Seravalle e quindi del conguaglio. È stato fatto un ottimo lavoro e quando si pensa e si lavora per il bene comune e per l'interesse comune evidentemente si raggiungono risultati positivi per ambedue le istituzioni.